Paolo, che cos'è che ci permette di definire il personaggio della nostra storia come memorabile? Direi che l'aggettivo che abbiamo utilizzato sostanzialmente è quello che parla più di tutti, cioè memorabile significa che te lo ricordi. Ora i personaggi memorabili nella storia della letteratura sono tanti, però sono anche pochi. Nel senso sono tanti perché comunque potremmo fare una lista molto lunga da Polifemo a 007 James Bond fino all'amica geniale per dire, per fare un percorso. Non me l'aspettavo Polifemo. Polifemo è uno dei personaggi memorabili in assoluto, cioè un gigante con un occhio solo che viene ceccato e che lancia dei sassi nel mare e che quando gli chiedono chi è che ti ha fatto del male lui risponde nessuno perché è il nome che Ulisse gli ha dato, quindi non è neanche particolarmente sveglio, diciamo. È il primo esempio di cattivo dei film alla 007 che alla fine vengono fatti fuori tutti perché sono, tutto sommato, vogliono conquistare il mondo ma sono degli idioti. Ma Polifemo se lo ricordano tutti. Un altro personaggio memorabile quasi senza nome perché ce lo ricordiamo tutti come lo scarafaggio di Kafka. Chi è che si dimentica l'uomo trasformato in uno scarafaggio che poi nel racconto, se mi ricordo bene, neanche viene definito scarafaggio ma tipo enorme, insetto, schifoso o qualcosa del genere. Ma per noi resterà per sempre uno scarafaggio. E sono tantissimi, qualcuno naturalmente ricorda Montalbano, il Montalbano di Camilleri, un altro personaggio memorabile, qualche volta diventano memorabili perché passano nella televisione, qualcuno ricorda Pinocchio, sicuramente un personaggio super memorabile, insomma sono tanti, però ripeto sono anche pochi perché ci sono migliaia, miliardi di personaggi bellissimi, scritti bene, che però non sono memorabili, forse perché non incarnano un preciso tipo umano. Tanto per dire, sicuramente alcuni dei personaggi, dei grandi scrittori dell'Ottocento, sono così bellissimi, scritti benissimo, ma non è detto che arrivino al, che ne so, al grande, al grande pubblico dei lettori, mentre che ne so, boh, Fantozzi per dire, è anche egli un personaggio memorabile, anche se magari non è un personaggio letterariamente elevatissimo. C'è un problema con i personaggi memorabili, sai Lucia? E cioè diventano più memorabili dei loro autori e infatti in genere gli autori si offendono e ci rimangono male quando tu parli del personaggio invece di loro. Cioè il personaggio gli prende la scena, capito? Cioè Camilleri un po', pur avendo avuto grande successo, non gli piaceva tanto l'idea che Montalbano fosse così famoso e quindi alla fine succede che molti scrittori scrivono la morte dei loro personaggi famosi e lo ha fatto Agatha Christie, per esempio, l'hanno fatto in tanti perché poi alla fine gli rompono le scatole questi personaggi. Quindi stai citando pure involontariamente o volontariamente Stephen King con Miserie non deve morire. Eh certo, King che è uno scrittore di grande livello e sa benissimo che il nostro autore, una volta che ha un personaggio così meravigliosamente immortale come Miserie, però lo soffre perché viene considerato per sempre solo quello che scrive Miserie e lui ci resta male, capito? Quindi avere creato un personaggio immortale, memorabile, può essere grave. Un podcast della Scuola di scrittura Genius Se avete una domanda mandate un vocale 351-877-9461 Radio Genius Se ti piace, metti mi piace